ciao a tutti innanzitutto buon ferragosto e poi volevo ricordarvi che a breve inizieranno delle nuove dirette live streaming su un altro canale youtube non questo canale di easyarp che è interamente dedicato alla didattica ma sull'altro mio canale paolo de montis che trovate qui sopra dove insomma pubblico tutti i miei aspetti artistici se vi piacciono i contenuti che pubblico su questo canale molto probabilmente vi interesseranno anche i contenuti che trovate e che arriveranno a breve sull'altro canale youtube paolo de montis quindi fatemi un bel regalo andate a visitarlo ma soprattutto iscrivetevi 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 mi darete sicuramente una grandissima mano per tutto quello che ho in mente di fare ancora buon ferragosto a tutti e ci vediamo alla prossima buona estate ciao ciao